dalla lettera di san paolo apostolo ai romani fratelli chi ci separerà dall'amore di cristo forse la tribolazione l'angoscia alla persecuzione la fama alla nudità il pericolo la spada ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati io sono infatti persuaso che né morte né vita né angeli né principati né presente né avvenire né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di dio che in cristo gesù nostro signore grazie 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 grazie